Ed arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto, dovere e di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Me lo dì. È 50.000. E si chiusa in casa, nella stanza della televisione. Ti va la merenda? No, niente, niente, non vedi che sto guardando? Ma sono due giorni che non mangi. Vina, stami a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi, fuori, fuori, sbammare, via! E fammi un caffè molto forte. Sì. Dalla mattina, a notte fonda, non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Emergenza Carovita Emergenza Criminalità Emergenza Sanità Emergenza Rifiuti La sinistra ha messo il paese in ginocchio Rialzati, Italia L'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia che fatica, l'Italia della gente che si sveglia la mattina, va a lavorare, delle donne che cercano insieme di lavorare, di far crescere i figli, l'Italia dei ragazzi che vanno a scuola e che aspettano un futuro. Quell'Italia lì è abbondantemente in piedi ed è in piedi presto la mattina. Quella che si deve rialzare è la politica. Scegli un governo responsabile. Più sicuri, c'è alleanza. Il 13 e 14 aprile vota il Popolo della Libertà per Berlusconi Presidente. Lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Aia! Senza spingere. Ma cribio! Ma cosa fate? Tenga! Eh Dio santo! Le identi me le date! Schultz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di capò. Presidente, io mi ho levato per chiedere che, come Presidente, protegere i diritti dei diputati e, in particolare, l'honore del signor Schultz. Io credo che, ademais di dare la parola al signor Schultz, io le pediria che rogara al signor Berlusconi, al Presidente del Consiglio, che ritirara esas palabras in honor a los valori, a los valori che compartimos todos los europeos. Grazie. Antiprocessare, buffone! Rispetta la legge! Rispetta la Costituzione! Prendete nota delle generalità perché voglio denunciare questo sistema. Prendete nota. C'è un ufficiale di polizia. Un ufficiale di polizia chiedo che intervenga a prendere le generalità perché voglio denunciare questo sistema. Non voglio denunciare questo signore. No, per favore, l'ufficiale di polizia prenda le generalità di questo sistema. Perché come voi ben sapete, nei giornalisti l'85%, ho visto i nomi della RAI, sono iscritti a sindacati di sinistra. Oggi la sinistra annuncia arrogantemente di volere andare innanzi a cambiare anche la regola fondamentale della democrazia, che è la legge elettorale. Noi lo diciamo in maniera molto chiara, molto decisa e molto precisa. Non glielo lasceremo fare. Non glielo lasceremo fare. E da oggi diciamo chiaro che ci rivolgeremo al capo dello Stato perché se la sinistra procederà in Parlamento e con i propri numeri, che sono i numeri di una maggioranza parlamentare, di un Parlamento che non è più lo specchio del Paese, che non corrisponde più alla situazione del Paese, e questa maggioranza in governo non è quella votata dagli italiani nel 1996 perché è una maggioranza fatta con eletti nelle file del centrodestra che hanno tradito il mandato degli elettori, che hanno tradito la prima norma morale della politica, che è quella del rispetto, del voto, della volontà degli elettori, se questa sinistra credesse di poter fare altrettanto e credesse con i propri numeri di far passare in Parlamento una legge elettorale con i soli suoi numeri, calpestando gli interessi della minoranza, dell'opposizione, io sono certo che questo capo dello Stato quella legge non la firmerà mai. La domanda poi andiamo in pubblicità, poi ho tante cose da chiudere. E' d'accordo anche lei pur essendo estensore della legge che andrebbero reintrodotte poi le preferenze, se no diventa un proporzionale nel maggioritario con nomi. Ma guardi, questa legge quando ho scritto una porcata? Quando ho scritto una porcata? Ho sentito bene, è una porcata, la scritta lei è una porcata. Quando uno fa una porcata e non se ne rende conto è un altro tipo di rispondere. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà la destra o la sinistra... Ma anche lei? No, pi, pi, pi... Piano, piano, tra tante contraddizioni e campane discordanti, Fantozzi maturò una sua personalissima decisione politica. buongiorno buongiorno ecco qua certificati elettorali oh mi scusi eh scusi eh dammi la ecco la patente ecco fantozzi fantocci prego venga grazie grazie accomodatevi ha votato fantocci ma permette preoccupato ma cosa sta facendo sto votando ah bene grazie a tutti grazie a tutti